Ciao, benvenuti ad un nuovo video! Questo è il canale dello sterile di Artemide e io sono Donatella. Stavolta, mi scuso se non ho più fatto video, ma questo mese è stato veramente pienissimo per me. L'ultima volta ci siamo lasciati con un tutorial capelli, invece questo video sarà un video consigli sullo shopping di primavera. In particolare volevo parlarvi di un sito sul quale faccio spessissimo acquisti. Il sito è Showroom Privé, un sito di vendite private. Che cosa vuol dire vendite private? Cioè che soltanto i membri iscritti al sito possono accedervi. Questo significa che avremo degli sconti esclusivi, proprio perché siamo clienti di questo sito, sconti esclusivi che vanno dal 50 al 70%. Su Showroom Privé possiamo trovare delle vendite del settore moda, donna, uomo e bambino, del settore cosmetici, lifestyle, quindi anche sport o prodotti per il bricolage, biancheria ed elettrodomestici. Su Showroom Privé possiamo trovare gli sconti così alti perché è un sito che mette insieme dei prodotti degli anni precedenti, quindi una sorta di outlet. Questi prodotti sono sempre nuovi e provengono appunto dalle fine serie, dalle sovrapproduzioni e dai prodotti, dagli articoli invenduti. E Showroom Privé si assicura lo stato, le garanzie e i servizi che sono proposti da ogni marchio. Showroom Privé è un sito francese che però è diffuso in tutta Europa proprio per la capacità di saper mettere insieme tantissimi prodotti. Allora come funziona Showroom Privé? Innanzitutto bisogna iscriversi andando sul sito e mettendo il proprio indirizzo email e una propria password. Di solito ai nuovi clienti viene sempre data una percentuale di sconto o un buono sconto. Poi ogni volta che sarà attiva una vendita sul sito, una vendita privata, riceveremo un'email, quindi potremmo accedere stesso il giorno della vendita per usufruire di quegli sconti. Vi faccio vedere come funziona. Allora digito Showroom Privé e accedo al sito. Ovviamente in questa zona io ho già effettuato il collegamento e quindi ho già messo la mia email e la mia password. Entro. Invece i nuovi clienti dovranno iscriversi tramite il form che avete appena visto. Qui abbiamo tutte le vendite, le last minute, quelle in consegna di 72 ore, le migliori vendite e poi abbiamo tutti i marchi, soprattutto marchi europei e anche marchi italiani e francesi. Poi c'è la sezione donna, uomo, bambino e casa. Ma siccome siamo in primavera e queste belle giornate ci fanno venire voglia di comprare qualcosa per l'esterno, Showroom Privé ha ideato questa sezione all'aria aperta. Dove appunto possiamo trovare tanti prodotti messi insieme per giardino, per il bricolage, per il balcone o per le scampagnate. Allora abbiamo all'aria aperta, Jolie Nappe, poi abbiamo i monopattini, i trampolini, il bricolage, i borsoni sportivi e accessori scolastici, questo sport svago, questo sarebbe bellissimo, le videocamere e il drone, questo se lo vede mia sorella vuole di sicuro, e le casse e le cuffie. Invece in questa sezione che vi vedete, qui sotto sono le prossime vendite che saranno attive nelle settimane successive. Torniamo sopra, andiamo a vedere vendita all'aria aperta di Jolie Nappe, le tovaglie per il giardino, le tovaglie rotonde, le tovaglie ovali, strofinacci, vediamo le tovaglie. Come potete vedere, questo è il prezzo d'origine, lo prezzo originale, questa è la percentuale, quindi più del 70%, e questo è il prezzo che andrete a pagare, 10,50 euro per una tovaglia fucsia e nero, molto carina, questa anche mi piace, ce ne sono davvero tantissime, per l'esterno, quindi sono antimacchia, sono cerate. Scegliamone una, questa. Allora, in questa zona, la taglia, c'è la grandezza, 150x200, 150x240, o 150x350 addirittura. Scegliamo 240, in questa zona troviamo la descrizione, questa c'è per tutti gli articoli, la consegna sarà prevista tra il 20 aprile e il 28 aprile, perché così tanto? Perché comunque, Sean Privé deve richiedere il prodotto all'azienda madre, deve farselo mandare e poi tramite il suo corriere lo inviere all'acquirente finale. Torniamo nella sezione all'aria aperta, perché voglio farvi vedere. Delle altre vendite, ad esempio i trampolini e i canestri. Trampolini. Wow, qui siamo proprio ad altissimi livelli di divertimento. 193 euro per un trampolino di 244 centimetri, questo renderà felici sia gli adulti che i bambini. Poi c'è anche il più grande, 305 centimetri. 366, 400 centimetri, cioè stiamo veramente avanzando nel divertimento e comunque il prezzo continua a essere basso, perché da quasi 700 euro andremo a pagare 335, con il bel 53% di sconto. Torniamo nella sezione, voglio farvi vedere anche i droni. Ad esempio una cosa che si sta diffondendo tantissimo sono proprio le videoriprese fatte dall'alto con il drone. Adesso che vi faccio vedere il prezzo dei droni, veramente forse impazzirete. Videocamere e dispositivi. Poi vedremo il quadricottero telecomandato con illuminazione led bianco a 142 euro invece di 279, alla metà. Poi c'è anche il nero. C'è quest'altro in sei canali. Poi io non me ne intendo, basta che ne compro uno. Comunque sono prezzi molto abbordabili nel caso voleste regalarvi un drone per fare i vostri video e le vostre foto. Io direi di sì. Poi c'è anche questo a 91 euro con la stagata di memoria microSD da 4 giga. Insomma c'è una vasta scelta. Ci sono anche droni più economici come questo a 59 euro. pure questo a 39 euro è giusto se volete togliervi uno sfizio di acquistare un drone e poi vedere per un altro accessorio. Insomma c'è anche quello a 26 euro che sicuramente non vi farà venire le palpitazioni per aver speso per un oggetto che magari non vi serviva, però tutto serve. Torniamo indietro. Poi un'altra cosa che voglio mostrarvi sono le casse e le cuffie bluetooth per le feste in giardine o le feste in terrazza. Della marca Wright sono portatili, sono dei altoparlanti, delle casse altoparlanti. Bluetooth, vi faccio vedere veramente i prezzi bassissimi di queste altoparlanti, 29 euro invece di 90 euro, cioè siamo al 68% di sconto. La mini cassa a 12,50 euro. Vediamo i dettagli. Garanzia di prodotto un anno. Sotto c'è la descrizione. Se io volessi comprarla, faccio aggiungere al carrello. Continua lo shopping perché dovete sapere che ogni volta che scegliete di comprare in una delle vendite private dovete acquistare solo da quella vendita, altrimenti l'acquisto non potrà essere evaso, l'ordine non potrà essere evaso perché dovete pagare appunto i articoli che avete fatto da una vendita e poi aprire un altro acquisto con altre vendite di altre marche. Ad esempio vediamo le cuffie. Cuffie a 20 euro invece di 60, cioè ragazzi. Molto carine queste. Che belle queste qui. Cuffie audio alveo. Aggiungo il carrello e mi fa vedere il carrello. Poi se io premo su acquista mi fa vedere l'ordine completo. Oppure ad esempio abbiamo anche i barbecue, cioè significa che non ci comprate soltanto i vestiti ma facciamo felice tutta la famiglia. L'asdraio pieghevole a 59 euro invece di 129. La sedia da campeggio, la sedia da campeggio pedevole, il poggiapiedi. Insomma abbiamo tutto quello, anche il tavolo da campeggio a 71 euro. Abbiamo tutto quello di cui avremmo bisogno in un giardino o in un camping, quindi in un campeggio. Questa cucina da campeggio, questa davvero non l'ho mai vista. Dettagli. Cucina da campeggio, pieghevole, quattro vani portaggetti e quattro mensole, quattro piedini regolabili, retro in garza, cioè fantastica. Bellissima. Come vi ho detto queste sono le vendite che si apriranno prossimamente il venerdì 1 aprile e queste sono tutte le vendite che ci sono già. Sport e svago, se volessimo comprare qualche gioco da fare all'aria, aperta. Gioco dei birilli, ping pong, badminton, palloni, svago, ping pong. Secondo me è un grande gioco, però io ovviamente non ci so giocare. Abbiamo tutto il mini set a 10,50€, quindi prezzi veramente, veramente bassi. Quindi ricapitolando, showroom privé funziona accedendo a delle vendite private. Per accedere al showroom privé dovrete iscrivervi lasciando una email e una password che sceglierete voi. Il giorno delle vendite vi arriverà un'email e voi potrete accedere direttamente dall'email alla vendita che vi interessa. Una volta effettuato l'ordine il pagamento potrà essere effettuato con la carta di credito o paypal in metodi sicurissimi e veramente testati da me che ci compro da anni su showroom privé. Poi dopo effettuato l'ordine vi arriva un'email di conferma che appunto vi dice il vostro ordine è stato registrato. Quando il sito preparerà l'ordine vi spederà un'altra email che vi avviserà che il corriere ha preso la spedizione con sé. Di solito showroom privé si affida alle spedizioni DHL e quindi in associazione con il corriere Bartolini. Il pacco è tracciabile, lo potete andare a vedere nella sezione i miei ordini del sito. Dopo la vendita se non siete soddisfatti dell'acquisto potete avere 14 giorni di tempo per effettuare il reso in tutta sicurezza. Questo veramente showroom privé è un sito che io vi consiglio perché non si acquistano soltanto i vestiti o gli accessori ma anche accessori per la casa, prodotti di bellezza. Come avete visto anche prodotti per il bricolage, prodotti per l'aria aperta, prodotti per i bambini, i giocattoli e quindi veramente un sito da tenere d'occhio ogni settimana perché ogni settimana ci sono nuove vendite. Io spero che questo video possa esservi utile soprattutto perché ho per voi un piccolo regalo. Come miei follower avete diritto a questo piccolo sconto che ho in serbo per voi. Andate giù nell'info box, ci sarà un link, cliccateci sopra e iscrivetevi al sito showroom privé. Effettuate i vostri acquisti e il mio regalo per voi sarà un codice da inserire al momento del checkout del vostro ordine. Questo vi darà diritto a uno sconto di 10 euro su un acquisto di 40 euro. Quindi spero che questo codice vi faccia piacere che poi questo qui, mi raccomando, cliccate sul link sotto nell'info box e poi inserite questo codice al momento del checkout. Io spero che questo regalo vi faccia piacere e che la mia esperienza d'acquisto vi possa aiutare per l'utilizzo di questo sito. Vi ricordo l'indirizzo del mio blog dove di solito aggiorno molto di più rispetto al YouTube. Tutti i miei social li troverete dopo alla fine del video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!